Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto illuminazione Dinasun Kit 2.10. Kit doppio illuminatore da studio lampada al quarzo pro Dinasun 2XQL 1000 1000 Watt Cavalletto stativo Dinasun 2X803 Watt Illuminatore al quarzo con potenza regolabile a luce continua Descrizione illuminatore Dinasun QL 1000 Il kit lampada da studio e video professionale OpenFace Dinasun QL 1000 Watt È una lampada a luce continua con selettore della potenza, in uscita regolabile. Questa lampada è la soluzione, ideale per coloro che in uno studio fotografico, o per riprese video, hanno bisogno di una luce, continua stabile, ed affidabile. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie. 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 Grazie.